Fu il più importante concilio medievale e si celebrò sotto la direzione di Papa Innocenzo III dall'11 al 30 novembre 1215. Otto secoli dopo, quando la Chiesa ha riunito i propri vescovi per il sinodo sulla famiglia, il Pontificio Comitato di Scienze Storiche ha celebrato la profonda forza riformatrice del IV Concilio Lateranense. Vi presero parte oltre 400 vescovi e un gran numero di abbati e rappresentanti secolari. Alla Pontificia Università Lateranense e al Collegio Teutonico, il convegno internazionale dal titolo Il Concilio Lateranense, Riforma Istituzionale e Rinnovamento Spirituale, ha messo in luce come gli effetti di alcune decisioni prese allora siano ancora oggi ben evidenti, perché il Concilio trasformò in modo sostanziale la struttura della cristianità e della Chiesa. Padre Bernard Ardura, presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Questo XIII secolo è un secolo di grandi riforme e vediamo in questo secolo un gigante della teologia e della filosofia come Sant'Ommaso d'Aquino. Vediamo la nascita di tutti i frati minori. Vediamo infatti una grande riforma, una grande vitalità e una necessità anche di in qualche modo incanalare tutti questi movimenti. Erano dunque gli anni della predicazione di San Francesco d'Assisi e dei nascenti ordini dei frati minori. Il IV Concilio Lateranense diede un'organizzazione a tali realtà della Chiesa e l'innovazione a riguardo è proprio questa. Come religioso io direi che proprio è la riforma degli istituti religiosi, perché come dice Gesù nel Vangelo, se il sale perde il suo sapore allora cosa succederà? E precisamente gli istituti di vita religiosa, le società di vita apostoliche contemporanee hanno proprio questa vocazione, questa missione in seno alla Chiesa di dare sapore alla vita cristiana. La Chiesa di oggi sta per celebrare l'anno santo della misericordia. Papa Francesco più volte ha invitato a prepararsi a questo appuntamento con la confessione per guarire l'anima e il cuore. Un'altra novità che viene dal IV Concilio Lateranense. Gerd Melville tra gli organizzatori del convegno ed esperto di storia ecclesiastica e ordini religiosi medievali all'Università di Dresda in Germania. Il Concilio ha instituzionalizzato la confessione annuale per tutti i cristiani, per tutti i cristiani, per tutti i cattolici. E questa istituzione era valida fino adesso, era una cosa molto importante perché è anche una risposta su questa interiorizzazione della fede, la confessione, perché quando io sono a una fede in me, anche nel mio cuore, naturalmente l'instanza è la conscienza, chiaro, ma solo con la conscienza questo non funziona. si ha bisogno di una confessione, un dialogo con un prete e poi il sacramento della confessione e questa è nuova.